Musica Musica A me direi un evento molto interessante perché ci permette di entrare in contatto con investitori dell'area di Lugano o comunque sia svizzeri e quindi è un buon modo per far conoscere la nostra azienda, la Cairo Communication, a tutti questi investitori che possono essere potenziali i nostri azionisti che devono evidentemente conoscerci di persona e sentire da noi quali sono i risultati ottenuti e le strategie per il futuro. Musica Beh è un mercato che è un pochino in difficoltà diciamo in questi ultimi anni, è un po' in difficoltà perché generalmente noi siamo come Cairo Communication presenti nel settore della raccolta pubblicitaria e nel settore editoriale con la pubblicazione di mensili settimanali, molto settimanali e anche libri. È un mercato un po' in difficoltà nel quale peraltro noi abbiamo guadagnato delle quote di mercato molto importanti. Se voi pensate noi nel 2004 non esistevamo come editori di settimanali, oggi editiamo la bellezza di sei settimanali che vendono circa due milioni di copie a settimana e considerando le vendite in edicola dei settimanali nel mese di luglio eravamo in assoluto davanti a tutti, davanti anche ai grandi editori italiani. Per cui è un mercato che certamente vive un momento di difficoltà ma è anche un mercato molto ricettivo alle novità. Il lancio di nuovi giornali, giornali che interpretino il gusto del pubblico, il gusto dei lettori, è un lancio molto ben accetto, molto benvenuto dai lettori italiani, chiaramente anche al prezzo giusto rispetto alla qualità. Cioè è un lettore, quello italiano di oggi, che fa delle comparazioni molto strette prezzo-qualità. E quindi per noi che abbiamo lanciato giornali come Di Più, settimanale, che vende oltre 600 mila copie, Di Più TV, televisivo, settimanale sempre, che vende oltre 400 mila copie, Diva e Donna, settimanale femminile all'attualità che vende più di 200 mila copie, TV Mia, guida televisiva da 170 mila copie. E recentemente, proprio in quest'anno, 2012, che è un anno di difficoltà, ma nel quale noi abbiamo colto alcune opportunità che vedevamo sul mercato, ingaggiando bravi direttori, Riccardo Signoretti per il nostro nuovo settimanale familiare nuovo, che ha venduto nei primi 33 numeri, da gennaio ad oggi, 313 mila copie, quindi numeri importantissimi, e poi Marisa Dei Michei, ex direttore di Two Style e anche di Vanity Fair, che ha venduto, con il nuovo lancio femminile F, giornali di alta qualità, dedicato ovviamente alle aziende di moda, cosmetica, oggetti personali che investono molto nel settore della carta stampata, ha venduto nei primi 13 numeri 238 mila copie. Quindi con questi giornali abbiamo un pacchetto di settimanali, 6 settimanali, che vendono circa 2 milioni di copie, 2 milioni di copie a settimana, e che ci hanno portati ad essere sostanzialmente il primo player, il primo editore di settimanali periodici che vende più di tutti in Italia e quindi con risultati veramente eccellenti. Quindi è un mercato, secondo me, selettivo, che offre grandi opportunità, vanno colte con idee nuove. Noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto in questi ultimi 12 anni, e cioè da una parte a sviluppare il settore editoriale, col lancio di nuovi giornali, abbiamo ritenuto più conveniente lanciare nuovi giornali, come DPU, come DPU TV, come F recentemente, nuovo, eccetera, che non andare a comprare i giornali esistenti, anche perché il giornale esistente che ha avuto magari difficoltà è difficilmente rilanciabile. Un nuovo giornale che parte con un concept che il pubblico apprezza al giusto prezzo, con la giusta comunicazione, può essere un grande successo, come di fatto per noi è stato, appunto, con i due milioni di copie che vendiamo a settimana, di settimanali, e ci pongono al vertice per le copie vendute in edicola. Quindi uno, continuare col lancio di giornali ed evidentemente sviluppare i giornali che abbiamo. E poi per la parte, diciamo, legata all'attività di raccolta di pubblicità, e per i nostri giornali, e per canali televisivi come La Sette, come Cartoon Network, come Boomerang, cercare di continuare a sviluppare la raccolta pubblicitaria di queste televisioni, che hanno avuto successo strepitoso in questi ultimi anni. Basti pensare che La Sette, nell'ultimo anno scorso, nel 2011, è cresciuta in fatturato del 30% a fronte di un mercato televisivo che ha perso il 3%. E anche quest'anno, nei primi otto mesi dell'anno, da gennaio ad agosto del 2012, stiamo crescendo dell'11% con La Sette in un mercato che fa meno 10% e con l'ascolto della Sette che non cresce più, ma si è di fatto consolidato a valori simili a quelli dello scorso anno. Ho detto prima, noi diciamo che non escludiamo mai nulla, perché evidentemente dipende dalle opportunità che il mercato ti consente di valutare. Al momento, per noi è stato molto più conveniente, per esempio nello sviluppo editoriale, sviluppare la nostra base, che era la Giorgio Mondadori, un'azienda editoriale che acquistai da Giorgio Mondadori nel 99, un'azienda che però allora fatturava 50 miliardi delle vecchie lire, perdendo 10 miliardi, che abbiamo risanato in tempi rapidi, e sulla quale abbiamo poi innestato una serie di lanci, creando poi una nuova azienda editoriale che è la Cairo Editore, con la quale abbiamo lanciato da DPU a DPU TV a tutti gli altri giornali. Abbiamo ritenuto fosse più conveniente, meno costoso e più efficace, invece che acquistare giornali esistenti, lanciare nuovi giornali. Quindi l'ipotesi di crescita per linee esterne con la cassa importante che abbiamo, perché abbiamo 57 milioni di cassa al 30 giugno di quest'anno, è una cosa che valutiamo pure, ma evidentemente soltanto a fronte di opportunità significative. Noi siamo un'azienda che ha dato anche dividendi molto importanti negli anni passati, per esempio nell'ultimo anno, il 2011, abbiamo dato un dividendo di 0,30, che considerando il prezzo dell'azione di oggi, che è circa 2,7, vorrebbe dire di fatto 0,30 su 2,7, un rendimento dell'11%. E contiamo di continuare a dare continuità a questo rendimento, a questa politica di dividendi.